Scusate però non sono così esperto nel tenere questi incontri con un pubblico così numeroso. Il sindaco Nardi è rimasto oltre che positivamente sorpreso anche un po' intimorito dalle oltre mille persone che ieri sera si sono presentate all'assemblea aperta sulla situazione del comune di Farra alle prese con un pignoramento da 11 milioni di euro. Una situazione che sta bloccando tutto ad iniziare dai servizi ai cittadini più deboli e il sindaco lo spiega senza tanti giochi di parole. Abbiamo degli anziani, una quarantina di persone che noi assistiamo a casa ai quali ogni giorno viene conferito un pranzo che generalmente si fa in modo che basti anche per la cena. C'è una cooperativa che va a trovarli, che li pulisce, pulisce vuol dire che la geneta ha cacca dal dadrio, ma fortuna, ecco questo. E quindi questo oggi non siamo più in grado di garantirlo. Un'assemblea giunta al termine della marcia silenziosa del sindaco con la solidarietà degli altri primi cittadini del quartiere del Piave e di altri amministratori ad iniziare dal presidente del Veneto. Un altro che è assente, lo sa, che è assente. E quello che possiamo fare nel limite delle leggi lo facciamo volentieri, anche per essere presenti con delle risorse, è un intervento straordinario. Al di là della solidarietà resta l'amarezza per tutta la situazione. Però questo atto non era dovuto perché siamo in prossimità, e questo lo sapevano tutti, in prossimità da parte della Cassazione del risponso dell'esito della sentenza. Io personalmente lo ritengo una cattiveria nei confronti della comunità. Chi ha deciso questo doveva pensarci bene prima. Una marcia è un'assemblea per chiedere a chi vanta diritti di accettare una mediazione e a chi è deciso di mettere all'angolo una comunità, di tornare sui propri passi. Io torno a dire, la sentenza si può fare, io non entro ancora sul merito di chi ha ragione o non ha ragione. Vincolatemi una parte dei soldi che siano quelli che si possono vincolare, quelli che non sono indispensabili per l'ordinario vivere della municipalità.